Grazie a tutti. Grazie a tutti. Come avete sentito dai titoli, un incendio è divampato all'asilo nido Arcobaleno al soccorso. Gravi danni alla struttura da poco riqualificata su cui il comune ha investito 360 mila euro. I bambini nei prossimi giorni saranno poi trasferiti in altre strutture. Sentite. Un incendio ha gravemente danneggiato e reso inagibile l'asilo nido comunale Arcobaleno in via del Purgatorio al soccorso. Le fiamme sono divampate ieri sera attorno alle 20.30. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco. Il rogo ha interessato tre quarti dello stabile che si sviluppa sul solo piano terra danneggiando impianti e arredi nei vari locali. Anche le altre stanze sono inagibili per danni da fumo. Le fiamme sono state domate in breve tempo e non si lamentano danni strutturali né feriti. Al momento dell'accaduto nell'asilo non c'era infatti nessuno. Il personale impegnato nelle pulizie che ha finito di lavorare attorno alle 19 non ha notato nessuna anomalia. I pompieri hanno effettuato la bonifica e la messa in sicurezza dell'aria. Per quanto riguarda le cause abbiamo iniziato da ieri sera tutta l'analisi sia per scongiurare la natura dolosa e sia per verificare se la causa è attribuibile ad altri elementi quali impianti che potrebbero essere stati in una possibile fonte di innesca. Parlo prevalentemente di impianti. L'asilo nido arcobaleno era stato oggetto pochi mesi fa di un investimento di circa 360 mila euro da parte del comune che grazie anche a prestiti a tasso agevolato dei fondi chioto ne aveva curato la riqualificazione energetica con pannelli fotovoltaici, cappotti termici, infissi ad alte prestazioni e pompe di calore. Interventi che erano valsi il riconoscimento di edificio ad energia quasi zero. L'accudimento dei bambini nella giornata di oggi non è stato possibile e le famiglie sono state invitate a provvedere ai loro piccoli. Sul posto per un sopralluogo si è recato stamani anche il sindaco Matteo Biffoni. Un disastro nel senso è un asilo nuovo, bellino, novissimo, infatti tant'è che tutto il cappotto esterno sembrerebbe assolutamente intatto. Il problema adesso è non solo, c'è tutto da rifare dentro e completamente a rifare, poi c'è da sistemare questi bimbi. Fin da domani i bambini saranno trasferiti in altre strutture mantenendo gli stessi gruppi e i rispettivi educatori e personale di supporto. I 12 più piccoli andranno per metà all'asilo nido Il Fiore, quelli del tempo lungo, e gli altri 6 del tempo corto all'asilo nido Il Borgo. Altri 16 bambini troveranno spazio al centro giochi dell'asilo nido Il Castellare, mentre i 26 bambini più grandi saranno trasferiti alla ludoteca di Viale Galilei. Questa organizzazione resterà in funzione per i prossimi mesi, probabilmente almeno fino a giugno, finché non saranno effettuati i lavori e l'asilo nido Arcobaleno sarà tornato nuovamente agibile. E parliamo adesso dell'allerta meteorafiche fino a 70 km orari e una ventina di interventi dei vigili del fuoco nella nottata e nella prima mattinata di oggi per la rimozione di rami e oggetti pericolanti. Il forte evento preannunciato dal centro funzionale della regione, che ieri ha messo criticità arancione, sta interessando anche la nostra città. Il sindaco Biffoni nella serata di ieri ha emesso un'ordinanza di chiusura dei parchi e dei giardini pubblici di tutti i cimiteri e degli impianti sportivi all'aperto per l'intera giornata di oggi. Vietato inoltre l'utilizzo degli spazi aperti afferenti ai plessi scolastici, eccetto per l'ingresso e l'uscita. Le scuole sono comunque oggi regolarmente aperte. Disposta anche la chiusura degli impianti sportivi coperti e le tensostrutture e i palloni fino alla mezzanotte di oggi. Al momento la situazione è sotto controllo. E le forti raffiche di vento hanno anche creato problemi proprio ad uno dei palloni di copertura dei campi di calcio a 5 dello Sporting Club di Mezzana. Il telone è stato divelto e si è adagiato sul lato della declassata costringendo ad intervenire i vigili del fuoco per la messa in sicurezza. Secondo le previsioni meteo il vento forte proseguirà anche nel pomeriggio con velocità massima delle raffiche che potrebbero ancora presentarsi tra i 70 e i 90 km orari. E voltiamo pagina, passiamo alla politica con le elezioni amministrative. La Lega spetta l'arrivo in città del leader nazionale Matteo Salvini per ufficializzare la candidatura di Daniele Spada a sindaco. Sentite. Ormai è questione di giorni anche perché il tempo a disposizione sta per scadere. Settimana decisiva per l'ufficializzazione del candidato a sindaco del centro-destra, le prossime elezioni amministrative del 26 maggio. Daniele Spada, funzionario di Confcommercio, che gode del sostegno della Lega, sembra un passo dall'investitura ufficiale che potrebbe avvenire direttamente da parte di Matteo Salvini. Il leader nazionale del carroccio dovrebbe fare tappa a Firenze e quindi anche a Prato nei prossimi giorni proprio per ufficializzare i candidati a sindaco nelle due città. La Lega ci sta lavorando, la conferma arriva direttamente dal commissario provinciale Andrea Recaldin. Ritengo che ormai i tempi siano più che maturi per sciogliere le ultime riserve. Siamo in attesa di notizie importanti per i prossimi giorni, afferma Recaldin, che intanto dà appuntamento a mercoledì sera quando la Lega si ritroverà alla Camera di Commercio per parlare di sanità e dell'ospedale di Prato, insieme al consigliere regionale Jacopo Alberti. Resta da capire se Spada sarà il candidato di tutto il centrodestra oppure no. Non è un mistero che Forza Italia, con il sostegno di altri partiti, spinga da tempo per la candidatura di Rita Pieri. Se Spada dovesse ricevere l'investitura direttamente da Salvini, alle altre forze politiche di centrodestra non resterebbe che decidere da che parte stare. Ieri sera intanto presentazione ufficiale per i candidati al Consiglio Comunale di Prato, Libera e Sicura, 21 tra imprenditori, insegnanti e studenti che fanno parte della lista capeggiata dal candidato sindaco Aldo Milone. Per noi c'era Mattia Vignolini. Iniziata ufficialmente la campagna elettorale di Prato, Libera e Sicura, che ieri sera ha presentato la lista dei propri candidati al Consiglio Comunale per le amministrative di maggio. Una lista eterogenea, sottolinea il candidato sindaco Aldo Milone, formata da rappresentanti di diverse categorie professionali, come insegnanti, imprenditori e studenti. Questa lista di candidati è formata da un mix di giovani, mondo imprenditoriale e mondo della scuola. Ho voluto associare questi tre elementi perché credo che siano indispensabili anche per lanciare un messaggio ai pratesi. Una campagna elettorale che sarà impostata sui punti fondamentali della lista civica, lotta all'illegalità, sicurezza e sostegno sociale alle famiglie. Lo vediamo quasi tutti i giorni, questi aspetti della mia lista, che è la sicurezza, la lotta all'immigrazione clandestina e soprattutto la concorrenza sleale. Oggi Prato continua, dopo tanti anni, a essere oggetto, continua a essere terra di questa concorrenza sleale che impedisce a chi vuole investire, ovviamente non soltanto a livello locale, ma anche chi è investitore da fuori Prato, questo elemento della concorrenza sleale diventa un freno agli investimenti da fuori. E poi la questione sociale, i bisogni delle famiglie, bisogni reali, concreti, bisogni che non sono temporanei come l'attuale amministrazione cerca di far credere, ma bisogni che provengono da anni e che continuano ad esserci e quindi vanno affrontati con serietà e con riforme strutturali che possono dare delle risposte concrete. E passiamo adesso alla cronaca operazione antidroga della polizia che ieri a San Paolo ha sequestrato 3,360 grammi di hashish e 109 grammi di cocaina. Tutto è partito dal pedinamento di un 36enne noto per precedenti dispaccio. L'uomo cittadino marocchino è stato notato mentre cedeva un involucro ad una donna che fermata successivamente è stata trovata in possesso di 109 grammi di cocaina appena ricevuta dal magrebino. La perquisizione nel domicilio dell'uomo, assente in quel momento, ha permesso di trovare gli oltre 3 kg di hashish. Quando il 36enne si è presentato in serata in questura per ottemperare all'obbligo di firma è stato quindi arrestato. Sono 20 in media i nuovi casi di autismo diagnosticati ogni anno a livello cittadino. Intanto ci si prepara la terza edizione della settimana in blu con tante iniziative per sensibilizzare tutti su questo specifico disturbo. Ce ne parla Giulia Ghizzani. 20 nuovi casi diagnosticati in media in un anno. È il numero dei bambini presi in carico dai servizi dell'Asla a livello cittadino e affetti dal disturbo dello spettro autistico. In totale sono 298 le persone con autismo seguita ad oggi dall'azienda sanitaria. 186 hanno meno di 18 anni, 112 sono adulti. C'è una maggiore consapevolezza, una maggiore capacità di fare la diagnosi anche nelle situazioni che hanno una minore compromissione della capacità soprattutto di comunicare. È per sfatare i falsi miti e rompere l'isolamento che affligge molti di questi ragazzi che torna per il terzo anno la settimana in blu, promossa dal Comune con il supporto di numerose realtà del territorio. Tante le iniziative in programma dal 29 marzo al 2 aprile quando il Castello dell'Imperatore si colorerà di blu in occasione della giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo. Si comincia questo venerdì alle 17 al Centro Educativo Righi con la presentazione del librino illustrato Siamo tutti amici per favorire l'inclusione nel mondo della scuola. Domenica 31 dalle 10 alle 17 nell'area verde all'inizio di Via Cavour spazio invece alla guida di una mini moto fuoristrada per bimbi dai 7 ai 14 anni con il Motoclub Prato. Il 2 aprile nel pomeriggio in Palazzo Comunale accoglieremo i ragazzi che hanno fatto il percorso blu che è un percorso itinerante di trekking che vede coinvolte almeno 17 ragazzi e saremo nel salone per festeggiare il loro rientro e per festeggiare e ricordare la giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo. Dopo tutti in piazza, ma tutti tutti, c'è tutta la città che vuole con prove di pallacanesto, prove di tennis tavolo, prove di musica e ginnastica. La Fondazione Opera Santa Rita, oltre al Sentiero Blu che quest'anno vedrà due percorsi di trekking in parallelo uno sull'Appennino Pistoiese e l'altro sul Monte Morello promuoverà uno speciale laboratorio di fumetto alla scuola dalla chiesa tenuto proprio da ragazzi autistici. Le caratteristiche e le capacità di questi ragazzi vengono messe a disposizione di chi ovviamente partecipa nelle scuole a questi laboratori e loro stessi quindi diventano docenti riportano a fattore comune le loro conoscenze e le loro conoscenze in qualche modo vengono trasferite. Orizzonte Autismo Onlus chiuderà la festa con un pranzo di solidarietà nella giornata di domenica 7 aprile. Sono iniziati i lavori di ripolitura del monumento ai caduti in piazza 20 settembre a Poggia Caiano realizzato dallo scultore Mario Moschi ed inaugurato nel 1930 in particolare il lavoro durerà una settimana circa si tratta di un piccolo ma significativo intervento che apre una nuova stagione di interventi finalizzati a rendere il centro storico sempre più bello e accogliente valorizzando la storia e il patrimonio artistico e culturale della nostra città ha detto il sindaco di Poggia Caiano Francesco Pugelli. E al cimitero di Rocca Montemurlo invece sono iniziati i lavori per la realizzazione di 159 ossarini che si vanno ad aggiungere ad altrettanti costruiti quattro anni fa un intervento del valore di 25 mila euro che sarà concluso entro la metà di aprile. Gli ossarini saranno montati nella parte bassa del cimitero in continuità con quelli già esistenti e sono funzionali alle esumazioni che nel corso del 2019 interesseranno parte delle sepolture del Campo Santo per effettuare le quali era necessario provvedere alla realizzazione degli spazi adeguati dove appunto contenere i resti. Nasce a Prato la ciclofficina popolare per imparare la manutenzione della bicicletta, un servizio gratuito promosso da Critical Mass e da Lega Ambiente. Scopriamone di più. Un luogo aperto a tutti dove è possibile imparare a riparare la propria bicicletta con l'aiuto di ciclisti più esperti. Nasce a Prato la ciclofficina popolare uno spazio per rimettere al centro la manualità e il rapporto di cura delle cose che già possediamo. Ieri sera l'inaugurazione nella sede di Lega Ambiente in Via Tinaia dove dal lunedì prossimo si terrà T-Riciclo un progetto per scoprire la manutenzione della bicicletta. Sette incontri gratuiti per imparare a sapere smontare una catena a riparare una ruota, a lucchettare nel modo corretto la propria bicicletta e tutte quelle operazioni necessarie per poter utilizzare quotidianamente la propria bici. Gli appuntamenti continueranno poi ogni lunedì dalle 21 alle 23 sempre nella sede di Lega Ambiente. Ciclofficina e T-Riciclo sono un progetto di Critical Mass ovvero un raduno organizzato dei ciclisti. Questo progetto della ciclofficina partirà dal prossimo lunedì e per 7 lunedì ci sarà tutta una serie di incontri gratuiti aperti a tutti per tutte le età riguardanti come si ripara la bicicletta, l'autoriparazione insegneremo, condiviremo, impareremo anche da qualcuno se qualcuno vuole insegnare insomma sarà uno scambio reciproco appunto il tema della riparazione della bicicletta si parlerà della ruota, si parlerà dei viaggi si parlerà dei pezzi di ricambio, catena, movimento centrale tutti i vari pezzi della bicicletta. Finito questo ciclo di 7 incontri partirà appunto la vera e propria ciclofficina quindi una persona può venire qui tranquillamente con la bicicletta e autoripararsi la bicicletta preferibile se una persona si porta i propri pezzi così li montiamo è tutto gratuito, tutto un servizio gratuito che appunto noi di Critical Mass facciamo insieme a Lega Ambiente. E passiamo adesso alle previsioni del tempo come sempre a cura del Consorzio Lamma. Un caloroso saluto a tutti ben trovati all'appuntamento con il meteo a cura del Consorzio Lamma l'immagine dal satellite ci mostra una certa nuvolosità presente sulle regioni centro-settentrionali nubi legate all'afflusso di aria fredda proveniente dai Balcani. Ma andiamo a vedere il tempo previsto per la giornata di oggi una giornata che in mattinata inizia con cielo per lo più nuvoloso con ancora qualche precipitazione sparsa in particolare su Grossetano, Senese, Aretino, Appennino, Fiorentino con possibilità anche di qualche debole nevicata a quote collinari sull'Appennino intorno ai 5-700 metri di quota a quote leggermente superiori sulla miata migliora nella seconda parte della giornata con ampie schiarite a partire dalle zone di nord-ovest ma il fenomeno più importante di questa giornata è rappresentato dal vento venti molto forti di grecale venti che già in queste ore hanno raggiunto 80-90 km di raffica nelle zone di pianura fino a 100 e anche oltre su Costa e Arcipelago e ben oltre i 100 km all'ora sulle zone montuose ricordiamo che per oggi è presente una criticità di tipo arancione su gran parte della nostra regione segnaliamo anche le temperature previste in sensibile diminuzione in particolare sulle zone interne andiamo a vedere anche la giornata di domani giornata con cielo poco parzialmente nuvoloso con venti di grecale in attenuazione ma ancora molto forti con mari poco mossi sotto Costa mossi invece a largo le temperature stazionarie nei valori minimi in lieve aumento per quanto riguarda le massime è tutto, grazie per l'attenzione e questa era l'ultima notizia il telegiornale termina qui il prossimo appuntamento con l'informazione di TV Prato e per questa sera alle 20.30 grazie per averci seguito e arrivederci grazie a tutti grazie a tutti